Si chiama Lucilla Boari ed ha ottenuto di recente una medaglia di bronzo nell'Olimpiade di Tokyo nella disciplina chiamata Tiro con l'arco, non stavo sbagliando, è riuscita a battere nella finale l'americana McKenzie Brown andando a dominare fin dalla parte iniziale di questa Olimpiade di Tokyo 2020 o mezzo 2021 con un punteggio finale di 7 a 1, un risultato davvero emblematico, storico per l'arco italiano Azzurra aveva già perso nella semifinale con la russa Ena Osipova nei quarti di finale l'Azzurra va a battere 6 a 2 la cinese Xian Hu non era mai capitato prima d'ora che una donna, diciamo così, azzurra, un'azurra, un italiano andasse a vencere una medaglia in una competizione di questo tipo che è quella proprio relativa al tiro con l'arco diciamo che io l'avevo anche abbastanza difficile, nonché complicata vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi cari utenti di Youtube, iscrivetevi al canale, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate un saluto nei cari, al prossimo, vi ringrazio a tutti